Ciao, sono Andrea Roncari e nel video articolo di oggi parliamo degli esercizi per il petto alto. Quali sono infatti le possibilità in palestra per stimolare al meglio la parte alta del pettorale? È vero che per farlo bisogna inclinare la panca e se sì, di quanto? Scopriamolo insieme! Prima di parlare degli accorgimenti utili a stimolare in maniera più selettiva la parte alta del pettorale, facciamo una piccola introduzione anatomica rispetto alle funzioni di questo muscolo. Il gran pettorale ha infatti una peculiarità, ha una particolare forma a ventaglio che dalla clavicola e dallo sterno porta le sue fibre a proiettarsi verso l'omero. Di conseguenza le fibre hanno un andamento trasversale e quindi è possibile effettivamente suddividere sia per localizzazione sia per funzioni anatomiche questo muscolo in una parte alta e in una parte più bassa. La parte alta è chiamata parte clavicolare, mentre quella bassa ha porzione esterno costale. Da un punto di vista funzionale, tutto il gran pettorale ha funzione di adduzione dell'omero sia lungo il piano frontale che in quello trasversale e quest'ultima è la funzione riprodotta durante gli esercizi, sia funzione di rotazione interna del braccio ma anche di flessione ed estensione allo stesso tempo. Vediamo di che cosa stiamo parlando. In particolare la parte alta del pettorale ha la funzione di flettere l'omero, ossia di sollevare il braccio quando questo parte lungo il fianco. Viceversa la porzione più bassa, quella sterno costale, ha invece una funzione opposta, ossia quando il braccio si ritrova sollevato sopra la testa lo riporta lungo il fianco. Va da sé quindi che le due porzioni distinte del pettorale, quella alta e quella bassa, hanno una funzione su tre opposta, quindi all'interno dello stesso muscolo hanno una funzione antagoniste. Ciò si ripercuote quindi anche nella scelta degli esercizi e nell'enfasi che possiamo dare al gran pettorale alto o a quello basso durante l'esecuzione. Da un punto di vista degli esercizi in palestra, generalmente questi riproducono la funzione di adduzione lungo il piano orizzontale, ossia di avvicinamento trasversale del braccio allo sterno. Questa è la classica funzione riprodotta durante la panca piana, durante le croci, durante le croci ai cavi e i push up. In virtù di quanto appreso nella prima parte del video, possiamo quindi altresì dire che durante questo tipo di esercizi, le fibre del pettorale sono grossomodo stimolate allo stesso modo e quindi sia parte alta che parte bassa del pettorale sono adeguatamente attive e possiamo considerare tutti gli esercizi con panca piana o tutti gli esercizi eseguiti in stazione retta come le croci ai cavi ottimi esercizi per stimolare sia la parte alta sia la parte bassa del gran pettorale. Tuttavia uno degli accorgimenti principali consigliati in palestra per stimolare maggiormente la parte alta è quello di inclinare la panca. Le famose spinte su panca inclinata infatti sono esercizi famosi insegnati per stimolare e veicolare al meglio lo stimolo sulla parte alta di questo muscolo. Ma perché inclinare la panca stimola maggiormente il petto alto? Questo accade essenzialmente perché quando incliniamo la panca, il movimento dell'omero si trasforma più da un'auduzione verso una flessione. Abbiamo imparato nella prima parte del video che la flessione dell'omero è garantita da il pettorale alto, è garantita anche da una neutralizzazione del pettorale basso. Infatti il pettorale basso non si può contrarre se vogliamo sollevare l'omero, si deve rilasciare. Per questo più incliniamo la panca, più il movimento diventa una flessione della spalla, più è il gran pettorale alto attivo e meno quello basso. Di conseguenza inclinando la panca possiamo effettivamente dire che non è che si contrae di più il pettorale alto, ma il pettorale basso che viene meno. Semplificando molto possiamo quindi dire che inclinando la panca effettivamente è il pettorale alto quello che riceve la maggior parte dello stimolo muscolare. La letteratura scientifica consiglia di inclinare la panca a circa 45 gradi per un'ottimale stimolazione di questi fasci del muscolo. Non solo la panca piana però è un accorgimento utile per selezionare l'attività del pettorale alto rispetto a quella del pettorale basso. Infatti anche la panca stretta, anche i push up stretti sono utili per selezionare l'attività dei fasci più alti del pettorale. Questo accade per lo stesso motivo di prima. Infatti se stringiamo la presa eseguiremo non più un movimento trasversale con l'omero, bensì un movimento lungo il piano sagittale, ossia solleveremo l'omero dai fianchi in una flessione di spalla. Questo accade nella fase concentrica delle spinte e accade grazie all'azione del pettorale alto che come visto è un flessore di spalla. Allo stesso modo se la spalla si flette, se l'omero si solleva, vuol dire che il pettorale basso non deve essere attivo. Per questo possiamo anche qui dire che la panca piana con presa stretta può essere un ottimo accorgimento per selezionare e veicolare al meglio il carico sul pettorale alto a discapito di quello basso. Anche qui però non è che il pettorale alto si attiva di più, non è che la panca stretta è un esercizio che attiva di più il petto alto, semplicemente attiva di meno il petto basso. In conclusione che cosa possiamo dire? Non esistono in assoluto esercizi per il petto alto o per il petto basso. Esistono varianti esecutive che sono in grado di neutralizzare le fibre più basse a favore di quelle più alte, ma semplicemente perché stiamo cambiando il piano di movimento. Inoltre il petto alto, in virtù appunto della localizzazione delle fibre e del loro andamento, permette un'ottimale attivazione anche durante qualsiasi variante con panca piana. Quindi panca piana bilanciere, panca piana manubri, croci manubri o croci ai cavi sono tutti ottimi esercizi che garantiscono un'ottimale attivazione del petto alto anche senza inclinare la panca. Se poi vogliamo invece inserire, variando gli stimoli, anche varianti con panca inclinata o con presa stretta, facciamolo pure, consapevoli che non è il petto alto da attivarsi di più, ma è il petto basso da attivarsi di meno. Inoltre ricordate che visivamente il pettorale alto sembra meno sviluppato di quello basso semplicemente per una questione di gravità. Per questo non impazzite alla ricerca di esercizi magici, ma dedicate il tempo a migliorare i parametri allenanti, a progredire con i carichi e a veicolare l'intensità giusta su tutto il gran pettorale, sia con panca inclinata che con panca piana.